Le operazioni condotte dai carabinieri a Reggio Calabria e a Brescia testimoniano ancora una volta l'impegno straordinario di magistratura e forze dell'ordine contro le organizzazioni criminali che colpiscono il tessuto economico e sociale del nostro Paese. Lo ha dichiarato il ministro dell'interno Matteo Piantedossi commentando l'esecuzione in 16 province italiane di decine di misure di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone ritenute gravemente indiziate di associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni da guerra, estorsioni e usura. Le operazioni che hanno fatto emergere la dinamica e gli assetti interni di una cosca antalanghetistica attiva nel narcotraffico, nelle estorsioni e nel controllo delle attività imprenditoriali con interessi ramificati in tutto il Paese e in diversi stati esteri evidenziano l'azione pervasiva delle organizzazioni criminali, la forza che esercitano sulle ampie zone del territorio, la loro proiezione sull'intero territorio nazionale e di consolidati legami internazionali. La priorità delle istituzioni e delle forze di polizia è quella di combattere questi sodalizi criminali che aggrediscono e sfruttano le risorse del nostro tessuto economico e sociale con l'obiettivo di incrementare i propri profitti illeciti. Tutelare l'economia contro le infiltrazioni criminali è una premessa indispensabile per la crescita dei territori vessati dalla criminalità mafiosa e a cui dobbiamo garantire, conclude Piantedossi, sicurezza e legalità. Grazie Grazie